Tutta la potenza del vento è racchiusa dentro di te, scatenala con le Tornado, soffia e via, alla massima velocità, soffia nel turbo e vinci la sfida con la tua scuderia, Blackfire, Urban, Shark, Fenix, Tornado, veloci come il vento! Bene ragazzi, oggi vi parlerò di un gioco molto bello, si chiama Tornado ed è della Sbavam, molto semplice da usare, prendi la macchina, prendi il tubicino che viene dato insieme, lo infili, soffi tre volte e lo lascia andare togliendo il tubicino, così, si toglie e si lascia andare, avete capito ragazzi? Provate voi, tre, due, uno, via! Sfida a punti, molto semplice, tre volte, fatele come volete a casa, per esempio io ho preso i pesi di mio padre, in pratica una alla volta si lanciano le macchine e chi becca questo è un mito, chi becca quello grigio sono tre punti, chi becca questo sono cinque punti, vince chi fa più punti. Bene, tre, due, uno, via! Zero punti, iniziamo! Sì, cinque punti! Sfidabilità, molto semplice, in pratica non conta la velocità ma la precisione, chi riesce a fare arrivare la macchina più vicina al centro vince. Pronti? Sfidabilità, in pratica, molto semplice, una alla volta si fanno partire le macchinette e a seconda dei vinili che si prendono si guadagna una macchina, alla fine quando sono finita tutte le macchine chi ha più macchine vince. Pronti? In mezzo, tre, due, uno, vai! Ok, una macchina! Ora, secondo, tre, due, uno, forza! Anche tu, una macchina! Tre, due, uno, vai! Tornado è facile, semplice e divertente, consigliate alle nostre amici come li ho fatto con i miei! Tornado, veloci come il vento! Pa, pa, mamma!